Ma le aquile hanno occhi acuti e possono vedere cose piccole a grande distanza. Il signore delle aquile e delle montagne neviose aveva occhi che potevano guardare il sole senza problemi, vedere un coniglio muoversi al suolo un miglio più sotto, perfino alla luce della luna, sicché pur non potendo vedere la gente sugli alberi, potè scorgere il tumulto tra i lupi e vedere i piccoli guizzi di fuoco e udirne gli urulati e i guaiti che salivano debolmente fino a lui. Potè anche scorgere i bagliori della luna sulle lance e gli elmi degli orchi, mentre quegli esseri malvagi strisciavano fuori del loro portone, giù per i pendii in lunghe file che si snodavano nel bosco. Le aquile non sono uccelli gentili, alcune sono codarde e crudeli, ma quelle dell'antica stirpe delle montagne settentrionali erano le più nobili fra tutti gli uccelli, fiere, forti e magnanime. Esse non amavano gli orchi, né li temevano. Le rare volte in cui abbassavano lo sguardo su di loro, cosa che accadeva di rado poiché non mangiavano simili creature, piombavano loro addosso e li respingevano strellanti alle loro caverne e interrompevano qualsiasi malvagità stessero commettendo. Gli orchi odiavano le aquile e le temevano, ma non potevano raggiungere le loro sedi altissime, né cacciarle dalle montagne. Quella notte il signore delle aquile era veramente curioso di sapere cosa stesse succedendo. Così raccolse con lui molte altre aquile e tutte insieme volarono giù dalle montagne e volteggiando lentamente in circolo scesero sempre più giù verso il cerchio dei lupi e il luogo di raduno degli orchi. E per fortuna, laggiù stavano succedendo cose tremende, i lupi che avevano preso fuoco ed erano fuggiti nella foresta l'avevano incendiata in più punti, era estate inoltrata e sul versante orientale delle montagne aveva piovuto poco. Felci secche, rami caduti, grossi mucchi di aghi di pino e qua e là alberi morti furono presto in fiamme, tutto attorno alla radura dei mannari il fuoco divampò. Ma i lupi di guardia non lasciavano gli alberi, furiosi e rabbiosi saltavano e ululavano intorno ai tronchi, maledicendo i nani nelle loro orribili lingue, con la lingua di fuori e gli occhi che rinuncevano, rossi e feroci come le fiamme. Poi d'un tratto sopraggiunsero gli orchi, urlando e correndo. Credevano che si stesse svolgendo una battaglia con i boscaioli, ma presto vennero a sapere che... che cos'era veramente accaduto. Alcuni di loro si sedettero e si misero addirittura a ridere. Altri scuotevano le lance e battevano le aste contro gli scudi. Gli orchi non hanno paura del fuoco e presto fecero un piano che parve loro molto divertente. Alcuni riunirono tutti i lupi in un branco, altri ammucchiarono felci e sterpi intorno ai tronchi. Altri corsero attorno, pestando e battendo i piedi, battendo i piedi e pestando, finché quasi tutte le fiamme non furono spente, tranne quelle vicine agli alberi dove stavano i nani. Quel fuoco invece lo alimentarono con foglie, rami secchi e felci. Presto fecero un cerchio di fumo e di fiamme intorno ai nani, un cerchio cui non permisero di allargarsi e che fecero restringere poco a poco, finché il fuoco non raggiunse il combustibile ammucchiato sotto gli alberi. Bilbo aveva gli occhi pieni di fumo e sentiva già il calore delle fiamme. Attraverso il fumo poteva vedere gli orchi danzare in circolo come fa la gente intorno ai falò di mezza estate. Fuori del cerchio dei guerrieri che danzavano con lance e aste, i lupi stavano fermi a rispettosa distanza, osservando e aspettando. Bilbo udì gli orchi intonare un'orribile canzone. Beh, quindici uccelli su abeti posati, dal vento rovente son stati spennati, mancano l'ali di questi uccellini, cosa puoi farne di questi cosini? Meglio mangiarli arrostiti in tegame stufati, fritti bolliti sempre caldi gustati. Poi si interruppero e gridarono, volate via uccellini, volate via se potete, venite giù uccellini o vi arrostiremo nei vostri nidi, cantate, cantate uccellini, perché non cantate? Andate via, birbanti, gridò Gandalf in risposta. Gli uccelli non fanno il nido in questa stagione e poi ragazzacci che giocano col fuoco finiscono per scottarsi. Lo disse per farli arrabbiare e per far vedere che non aveva paura di loro, anche se naturalmente l'aveva, sebbene fosse uno stregone. Ma essi lo ignorarono e continuarono a cantare, e con la fine della canzone le fiamme raggiunsero l'albero di Gandalf. In un istante si propagarono agli altri alberi, la corteccia prese fuoco e i rami più bassi si spezzarono. Allora Gandalf si arrampicò in cima all'albero. Dal suo magico bastone si sprigionò come un fulmine improvviso. Bagliore, mentre egli si preparava a saltar giù proprio in mezzo alle lance degli orchi. Sarebbe stata la fine per lui, anche se probabilmente ne avrebbe uccisi molti, abbattendosi al suolo come una saetta. Ma non spiccò mai quel salto, perché proprio in quell'attimo il Signore delle Aquile piombò giù dall'alto, lo afferrò con i suoi artigli e sparì. Dagli orchi si levò un urlo di sorpresa e di rabbia. Forte gridò il Signore delle Aquile con cui Gandalf aveva appena parlato. I grandi uccelli che erano con lui si avventarono e scesero come grosse ombre nere. I lupi ulularono e digrignarono i denti. Gli orchi ulularono e batterono i piedi per la collera. E in vano scagliarono in aria le loro lance pesanti. Le aquile si abbatterono su di loro. L'oscuro ciclone provocato dal battito delle ali li gettò a terra e li scagliò lontano. E gli artigli squarciarono le facce degli orchi. Altri uccelli volarono verso le cime degli alberi per afferrare i nani. Che ora si arrampicavano più su di quanto avessero mai osato salire. Il povero piccolo Bilbo fu quasi lasciato indietro un'altra volta. Fece appena in tempo ad attaccarsi alle gambe di Dori che fu portato via per ultimo. E insieme si innalzarono sopra il tumulto e l'incendio. Bilbo oscillando in aria con le braccia che quasi gli si spezzavano. Poco più in basso gli orchi e i lupi si disperdevano. In lungo e in largo. Qualche aquila ancora planava e volteggiava sul campo di battaglia. Le fiamme intorno agli alberi si levarono improvvise. Fin sopra i rami più alti. Ed ivamparono in un crepitante falò. Ci fu un'improvvisa esplosione di fumo e faville. Bilbo era scappato appena in tempo. Presto la luce dell'incendio si affievolì. In lontananza. In un bagliore rossastro sul suolo nero. Mentre essi nel cielo continuavano a salire. In cerchi maestosi e possenti. Bilbo non dimenticò mai quel volo. Visperatamente aggrappato alle caviglie di Dori. Gemeva le mie braccia, le mie braccia. E Dori si lamentava. Le mie povere gambe, le mie povere gambe. Perfino nei momenti migliori l'altitudine dava le vertigini a Bilbo. Si sentiva sempre come stordito se si sporgeva a guardare sopra l'orlo di un dilupo di proporzioni ridotte. E non gli erano mai piaciute le scale per non parlare degli alberi. Non avendo mai dovuto in precedenza sfuggire a dei lupi. Potete dunque immaginare quanto gli girasse la testa ora, quando guardava giù tra i suoi piedi dondolanti e vedeva le terre scure che si aprivano sotto di lui, toccate qua e là dalla luce della luna, sui fianchi rocciosi delle colline o su un ruscello nelle pianure. Le vette delle montagne si facevano più vicine, sommità rocciose illuminate dalla luna che sporgevano dalle tenebre. Estate o no, pareva che facesse molto freddo. Bilbo chiuse gli occhi e si domandò se avrebbe potuto resistere ancora. Poi immaginò cosa sarebbe accaduto se non ci fosse riuscito. E gli venne la nausea. Il volo finì appena in tempo. Proprio un istante prima che le sue braccia cedessero, lasciò le gambe di Dory con un rantolo e cadde sulla piattaforma sassosa di un nido d'aquila. Lì giacque senza parlare e i suoi pensieri erano un misto di sorpresa per essere ancora vivo e di paura di cadere nelle tenebre profonde che circondavano quel posto angosto. A quel punto si sentì veramente stordito, dopo le tremende avventure degli ultimi giorni passati senza nemmeno aver mangiato.